Il municipio di Cerignale è stato interamente restaurato e sabato sera si è illuminato di poesia. Sulla sua facciata infatti, grazie all'opera dell'artista Giorgio Milani, ci sono le parole di poeti e scrittori sulla montagna, sulla bellezza dei fiumi, sulla tenaccia della gente della valle. C'è chi oggi è ancora pronto a difenderla ed è stato premiato dal sindaco Massimo Castelli. L'artista Milani, l'imprenditore Groppalli, Davide Rampello, regista e inviato di Striscia la Notizia, Marco Profumo, presidente del consorzio Vinidoc Piacentini e Igles Corelli, chef stellato Michelin, che ha annunciato, innamorato del borgo, di voler qui aprire un ristorante. Mi è talmente piaciuto il posto che adesso poi ne parlo col sindaco, perché sarebbe bello veramente venire una volta al mese e utilizzare determinati prodotti del territorio per farli poi assaggiare ad un pubblico diverso, diverso da quello che è qui sul territorio, ma anche da fuori, insomma, questa la ritengo una cosa interessante. Da recuperare soprattutto il sentimento della narrazione di Valori Senza Tempo, come è stato detto alla tavola rotonda moderata dall'editorialista del Corriere della Sera Gian Giacomo Schiavi. Presenti il sociologo Aldo Bonomi, Davide Zanichelli, deputato, Luciano Groppalli, Marco Labirio, presidente della gamma, Giovanna Zucconi, scrittrice e imprenditrice agricola. Qui in montagna ci sono, come posso dire, valori straordinari, il tema è raccontarli, narrare. Se uno racconta, evidentemente crea, come ho detto prima, un immaginario ed è dall'immaginario che poi si crea valore. Perché un prodotto, se non è raccontato, e perciò il racconto lo valorizza, che prezzo gli do? Non c'è un prezzo. Anche il giornalista Michele Serra è intervenuto nell'anfiteatro di Cerignale, annunciando di aver preso la patente di trattorista per lavorare nella sua azienda in Alta Valtidone. Ha ricordato poi i tanti lavoratori stranieri nell'agricoltura. Farò anche quella dei cingoli, però, perché ho solo la patente per il trattore a ruote. Il carico burocratico è faticoso per gli italiani, dovrebbe esserlo un po' meno per gli stranieri, che fanno il doppio della fatica di noi per capire, interpretare, eccetera. C'è un accanimento burocratico nei loro confronti che andrebbe un pochino alleggerito. A tirare le conclusioni della giornata l'assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, che ha comunicato la necessità di recuperare il sapere tecnico. Dall'assessore l'appello ad Amazon e ai colossi della logistica a riscoprire il territorio, creando piattaforme di valorizzazione dei prodotti di nicchia d'eccellenza della montagna. Secondo l'assessore, a fine mese arriverà anche nei territori più decentrati dell'Appennino la banda larga. Secondo l'assessore, a fine mese arriverà anche nei territori più decentrati dell'Appennino la banda.